Padova non può essere una delle città più inquinate ma deve adeguarsi a molte città europee che proprio grazie ai fondi di Bruxelles hanno investito in mobilità sostenibile. Il candidato di coalizione civica Arturo Lorenzoni torna a riflettere sul tema del trasporto dopo il viaggio in Mongolfiera sopra Padova. La mobilità in particolare possiamo attingere a dei fondi legati al rinnovamento delle città che possono cambiare il volto della città. È un tema su cui è una certa esperienza. In università abbiamo lavorato quasi esclusivamente su fondi europei. Per troppo tempo sono mancati investimenti per favorire il trasporto pubblico. Credo che osserva veramente un ragionamento a 360 gradi per coprire tutti gli aspetti del miglioramento della qualità della vita delle persone. E su questo siamo pronti ad intervenire per la riduzione delle emissioni di CO2, per cambiare le modalità con cui ci muoviamo in città, per cambiare il modo in cui ristrutturiamo gli edifici, per dare a questa città un volto europeo. Domani Lorenzoni sarà in Piazza della Frutta per un incontro con i cittadini per celebrare la giornata della liberazione. Domani Lorenzoni